Evviva l'hotel Transilvania! Johnny si è fatto in quattro per creare questo evento speciale. Fuoco cattivo! Oh, la vedo brutta. Vai così, Blobby! Ok, grazie caro genero. Ho rovinato tutto. Johnny, ma di che cosa parli? Tuo padre non mi ha mai visto come parte della famiglia. E questo perché non sono un mostro. E così puoi diventare un mostro, eh? Van Helsing? Il raggio mostrificatore trasforma gli umani in mostri e i mostri in umani. Ma è sicuro, comunque? Bella domanda. Che strano. Non è successo niente. Oh! Ehi, Drac, come va? Johnny? L'incubo è finito. Sono di nuovo umano? Oh! Oh! Che cosa succede? Oh! Oh! L'operinitio! Ma che? Come va, ragazzi? Frank? Oh! Pelato! Ah! Nudo! Ah! Avete visto mio padre? Oh, no. Drac? No, 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 no. Tu sei umano e io sono un mostro. Dobbiamo rimediare. Ora, non c'è un momento da perdere. Oh, no. Il sole! Sei umano adesso. Non ti fai niente. È splendido. È magnifico. Un fuoco negli occhi!